Buongiorno Ottoliner, buongiorno a tutti, buongiorno al professor Marco Barbieri che abbiamo con noi, docente presso la Facoltà di Giurisprudenza in Diritto del Lavoro all'Università di Bari Aldomoro. È per noi un ospite gradito, lo abbiamo eseguito due settimane fa nel suo intervento al CNR che ci ha colpito e perciò abbiamo deciso di riproporvelo oggi per parlare con lui di tematiche inerenti al lavoro in Italia. Ecco, inizierei subito con una domanda quindi sul tema lavoro perché al netto della crisi che sappiamo, quindi una crisi di carattere inflazionistico, di carattere economico, esportativo che sta vivendo l'Europa e l'Italia e la Germania nello specifico, quindi due paesi mani fatturieri più grandi, quando poi sentiamo i telegiornali, leggiamo i giornali, vediamo continuamente una sequela di lamentele da parte della nostra classe dirigente imprenditoriale, da parte di Confindustria, da parte dei vari imprenditori, sull'alto costo del lavoro. Ecco, e sulla poca disponibilità dei lavoratori poi a rendersi disponibili su questo mercato, su questa ampia offerta di lavoro, su queste ampie domande di lavoro. Ecco, la domanda che le faccio riguarda questo. C'è del vero in questa narrazione? C'è una componente di verità sull'alto costo del lavoro e la poca flessibilità dei lavoratori italiani? Beh, naturalmente io direi di no, perché il punto è che l'alto costo del lavoro è un'espressione insensata, più o meno come le tasse sono troppo alte. Il problema è alto costo rispetto a che e rispetto a chi. Rispetto a che introdurrebbe il tema della produttività del lavoro, rispetto a chi introduce il tema del fatto che l'alto costo del lavoro presunto sarebbe un fattore di difficoltà competitiva rispetto ad altre economie. Ora, entrambe le questioni possono essere viste da diversi punti di vista. Io direi che rispetto a che cosa la stagnazione della produttività, che è una caratteristica di lungo periodo del sistema economico italiano di questi 25 anni forse, o 20, è dipesa da una mancanza di investimenti. Non certo da una bassa produttività del lavoro, perché in realtà coloro che lavorano a tempo pieno lavorano spesso anche più dell'orario contrattualmente previsto, o come viene detto abitualmente, fanno un sacco di straordinari. Coloro che lavorano a tempo parziale spesso debbono anche loro fare ore di lavoro che non erano originariamente previste, e nell'insieme non è certo l'inadeguata qualificazione dei lavoratori italiani a spiegare la bassa produttività di tutti i fattori produttivi. Infatti, come noi sappiamo, ci sono centinaia e centinaia di migliaia di giovani italiani e italiani qualificati, laureati, col master, col dottorato, che poi per trovare un lavoro decente vanno all'estero. Quindi rispetto al lavoro che viene fornito, il tema della produttività non credo che possa essere scaricato facilmente, malgrado ci siano ovviamente delle lamentele dal lato datoriale, sui lavoratori e sulle lavoratrici come se fosse una loro colpa. C'è da tenere presente un altro fatto. La composizione settoriale dell'economia italiana destra sempre più perplessità, perché noi stiamo assistendo alla demolizione dell'industria di questi ultimi giorni e tutta la vicenda dell'industria dell'auto che dopo essere stata svenduta da Fiat, poi Fiat Chrysler, attuale Stellantis, sostanzialmente svenduta a soci esteri, adesso rischia un ridimensionamento ulteriore oltre a quello avvenuto in questi anni. Se si chiude l'industria e si procura l'occupazione, tenete presente che i dati sull'occupazione sono fatti secondo i criteri dei statistici europei, per cui se tu lavori anche solo un'ora alla settimana risulti occupato. Allora noi stiamo avendo sempre più occupati in settori a bassa produttività i pub, le pizzerie, i caffè, a bassa produttività, anche qui, non certo per colpa di chi ci lavora, con limitata capacità innovativa e scarsa produzione di valore aggiunto. Questo significa che noi stiamo cercando di fare, in quel convegno romano che evocavi c'era, io ho usato la formula vogliono fare dell'Italia la Disneyland d'Europa, ma naturalmente questo vuol dire essere dipendenti da fenomeni esterni. Pensiamo a che cosa è stata la vicenda della scomparsa del turismo russo a seguito delle note vicende politiche e purtroppo belliche internazionali. Allora è chiaro che questo è un problema di governo dell'economia e non è un problema di alto costo del lavoro. Se poi ragioniamo sull'alto costo del lavoro rispetto a chi, va bene, c'è poco da fare. Ci sarà sempre, e dico sempre, un paese che per essere in una condizione economica più arretrata vede le persone disponibili che preferiscono anziché morire di fame lavorare per uno stipendio che noi considereremmo del tutto inadeguato. E' quello che abbiamo fatto noi, italiani, quando siamo emigrati a milioni, diciamo a partire da un secolo e mezzo fa, grosso modo, verso le Americhe, verso gli altri paesi europei più ricchi, la Francia, il Belgio, poi a un certo punto la Germania e dopo la seconda guerra mondiale ci sono italiani perfino in Australia ed è quello che inevitabilmente fanno le persone migrando verso i paesi più ricchi. Pensare di fare la concorrenza ai paesi più poveri sul costo del lavoro vuol dire cercare di rigirare indietro la ruota della storia. Se poi la gente non ha soldi in tasca, collassa l'economia, a cominciare dal commercio? Infatti su questo, proprio su questo, vera per Ananda, perché la stampa, diciamo, più vicina di area governativa, in particolare il Foglio, sta sviluppando questa retorica sul governo Meloni che avrebbe abbandonato gli iniziali proclami di stampo populista e, smentiti tutti i gufi, smentiti tutti i pessimisti, i dati sull'occupazione dimostrerebbero il grande successo delle politiche economiche varate. E quanto c'è di vero in questi numeri e in che modo poi corrispondono alla realtà del paese? I numeri sono sempre veri per quello che dicono, non per quello che non dicono. Come dicevo, il concetto di occupato che esiste nelle statistiche europee è un concetto che in realtà non riflette una persona che abbia un lavoro, come lo considereremo nel linguaggio comune delle persone comuni, bensì riflette quello che noi potremmo definire l'ideale sociale che ha animato l'Unione Europea a partire dal Trattato di Lisbona in poi, quando ha sostituito all'obiettivo socialdemocratico della piena occupazione l'obiettivo della occupabilità. Che cosa vuol dire la occupabilità? Che se tu non trovi un posto di lavoro o non sei abbastanza disperato da accettare posti di lavoro indecenti come condizioni e indecenti come retribuzione, la colpa è tua. Perché non sei occupabile e quindi un'attenzione focalizzata su un lato. la disoccupazione è colpa del disoccupato o della disoccupata che non sa cos'è utile al sistema di impresa. Tanto che io ho sentito da parte di persone che lavoravano in Confindustria la tesi che in Italia c'era l'overeducation. cioè i ragazzi erano troppo laureati. Noi, mi pare, salvo la Romania, siamo il paese dell'Unione Europea con il minor numero di laureati sulla classe di età delle persone che possono lavorare. E questo è straordinario. E loro dicevano no, siete troppo istruiti. Perché siete troppo istruiti? Perché non serve all'economia italiana. Cioè perché noi vogliamo un'economia italiana da terzo mondo sostanzialmente. Cioè un'economia di poveri. A questo corrisponde l'ideale sociale della piena sottooccupazione che devo dire è stato largamente condiviso da governi cosiddetti di centrodestra e da governi cosiddetti di centrosinistra. Cioè lavoricchi un poco precariamente a fare lavori che non ti consentono di utilizzare la tua capacità e quindi sono anche frustranti e con cui guadagni molto poco e quindi alimenti molto poco l'economia. Basta che lavori. Una cosa la devi fare. E tutta la vicenda del reddito di cittadinanza che è frutto di una campagna indecorosa e ignorante sui meridionali che stanno sul divano a non fare niente trascurando che più di trecentosettantamila persone tra i beneficiari erano gente che lavorava già. Lavorava già. Solo che guadagnava. Una miseria. Allora, questo, come dire, può darsi che il governo Meloni realizzi questo ideale sociale della piena sottooccupazione. lavora sempre più gente peraltro sempre poca rispetto alla media europea soprattutto se si parla di donne che sono le più penalizzate ma lavora poco lavora male lavora per pochi soldi sottoutilizzando direbbero i colleghi economisti la capacità produttiva delle persone. Allora, i dati sono veri ma che cosa ci dicono? Che il numero delle ore lavorate non aumenta. semplicemente lo dividiamo fra più cioè abbiamo più persone che lavorano poco part time oppure per periodi brevi di tempo precariamente è questa l'Italia che vogliamo se è questa l'Italia che vogliono vediamo che cosa penseranno gli italiani. Hai affrontato già nella prima domanda in realtà un tema che io avrei voluto chiederti in seguito che riguarda proprio questa conversione dell'economia italiana diciamo questa virata verso il turismo e quindi la deindustrializzazione del paese. Ora molto spesso sentiamo dire no, l'altro giorno è venuto ospite da noi anche Tritico e ci diceva a furia di tagliare i costi hanno tagliato gli investimenti perché è chiaro che se tu non investi non hai nessuna esposizione al rischio quindi qui ad essere messo in discussione è proprio un sistema produttivo generale che è quello del nostro paese e anche la classe imprenditoriale che sceglie di non investire in innovazione informazione diciamo in un progetto infrastrutturale strutturale anzi per il paese ora la domanda che voglio porti riguarda questo hai l'impressione che quindi ci sia proprio un così stretto legame tra la conversione dell'economia italiana al turismo quindi questa deriva verso una verso la Disney d'Europa e la scarsità di lavoro la frammentazione la precarizzazione cioè il problema reale il nodo secondo te è questo quindi cioè il ruolo che l'Italia si sta ricavando all'interno dell'Unione Europea come attore economico marginale direi che io rifuggo dalle spiegazioni monocausali questo è certamente un problema di primo ordine c'è un problema più generale che è la collocazione dell'Europa nei mutamenti dell'economia mondiale può piacere o non piacere ma il ventunesimo secolo non è come il ventesimo cioè è un secolo che si sta vedendo caratterizzato dall'ascesa di una serie di paesi che nel ventesimo secolo a fatica sono usciti dalla dominazione coloniale pensare di conservare un mondo in cui c'è una situazione di iperprivilegio degli Stati Uniti d'America e dei paesi collegati e anche tutto sommato sudditi l'Europa occidentale e il Canada l'Australia è una pretesa che è fuori del mondo e che infatti viene alimentata soltanto dalla violenza militare che gli Stati Uniti esercitano un po' dovunque nel mondo io credo che ci sia un problema di orientamento generale dell'Europa infatti anche la Germania sta andando in grande difficoltà che ha un senso e si può unire innanzitutto perché l'unità d'Europa non è interesse degli Stati Uniti che infatti per impedirla quando è crollata l'Unione Sovietica hanno ottenuto hanno premuto e ottenuto sugli Stati dell'allora comunità economica europea per estendersi ai paesi dell'Est che avevano altre storie storie secolari perché l'Europa dell'Est è sempre stata una grande riserva produttiva agricola a Est dell'Elba dicono gli storici moderni ma il senso di includere nell'Europa paesi che avevano una storia innanzitutto economica e una situazione sociale e anche una tradizione politica non democratica del tutto diversa dalla nostra era quella di isolare la Russia impedire che si unisse l'Europa e continuare a essere a renderla suddita degli Stati Uniti e questo meccanismo non è conveniente capisco senta ma invece per quanto riguarda l'intervento al CNR ci ha molto colpito come redazione noi stiamo cercando di affrontare anche i temi che riguardano il meridione cioè di portare anche un focus su il meridione e sul modo in cui il governo si sta rapportando al meridione perché appunto c'è stata tutta la retorica del reddito di cittadinanza ma quello diciamo è l'ultimo anello in generale proprio di un modo di portare l'attenzione al sud che è quasi da colonia in qualche modo è un rapporto veramente centralizzato che prevede un sud sempre più marginalizzato e trascurato dalle autorità centrali ora ci ha molto colpito il passaggio in cui dicevi che precarizzazione e flessibilità in un paese come l'Italia che ha una così forte dualità una così forte polarizzazione tra un nord industriale e appunto un meridione che ormai è da decenni che viene trascurato dall'autorità centrale avrebbe avuto conseguenze nefaste ti va di approfondire questo argomento? Sì perché sono quasi vent'anni cominciamo con un convegno che fu tenuto a Roma un convegno principalmente di economisti ma insomma mi invitarono io feci una riflessione proprio su questo tema bisogna sapere che le ricette diciamo la parola è un po' imprecisa ma insomma neoliberiste quelle che sono genericamente riassunte sotto questo termine possono forse ottenere qualche successo ovviamente comportando dei prezzi molto pesanti per le classi lavoratrici in paesi che siano relativamente omogenei nei paesi contrassegnati da un profondo dualismo che dualismo storico che esiste in Italia tra nord e sud sono più di un secolo e mezzo da quando è stata fatta l'Italia che le migliori menti italiane si esercitano su questo problema in un paese come l'Italia dualizzato flessibilizzare il lavoro cioè dire ai datori di lavoro fate quello che volete perché così aumenta l'occupazione è una ricetta illusoria se ci si concentra sull'idea della transizione lo Stato che deve fare non si deve occupare tanto delle relazioni di lavoro quanto si deve occupare delle transizioni da un posto di lavoro all'altro si fa finta di ignorare che in un terzo del paese che è il mezzogiorno persino nella Puglia che tutto sommato è l'area dove vivo io economicamente meno scassata del mezzogiorno d'Italia la transizione se si chiude un'industria è spesso da un posto di lavoro ambiente da un posto di lavoro normale chiamiamolo così a un posto di lavoro precario da un posto di lavoro alla disponibilità per attività illecite perché è il livello della domanda globale direbbero gli economisti che è del tutto insufficiente allora se uno pensa che il problema sia che lo Stato si deve occupare delle transizioni da un posto di lavoro all'altro non vede l'Italia non vede l'Italia come è fatta non vede l'Italia dove peraltro talvolta anche al Nord se tu hai una certa età se non sei un giovanotto e perdi il posto di lavoro non lo trovi più non lo trovi e tutti i meccanismi arzigogolati con cui si è cercato di allungare l'età pensionabile senza tener conto di questo fatto sono dei meccanismi di puro risparmio della spesa pubblica ma è ovvio che noi dovremmo spendere di più per le pensioni se ci sono la società si sbilancia demograficamente ci sono sempre più anziani e sempre meno giovani al lavoro noi dovremmo spendere sempre di più per le pensioni c'è poco da fare oppure dovremmo dare alle persone delle pensioni da fame e noi vediamo purtroppo gli effetti di questo fatto quando è successo qualche giorno fa a Torino mi pare che un lavoratore è caduto da una gru dove stava lavorando a 66 anni ora 66 anni è un'età dove uno come dire su un ponteggio su una gru in un cantiere non dovrebbe stare quindi come dire è veramente non voler vedere l'Italia io ho detto a Roma in quell'occasione che hai più volte ricordato che se non si ha un'analisi corretta non si può avere una politica corretta e l'analisi che ci è stata rifilata ci bisogna di più flessibilità c'è troppo costo del lavoro tutta questa massa di sciocchezze ideologiche che non guardano alla vita reale delle persone e che ci hanno ammorbato sui giornali in televisione ma perfino sulle riviste scientifiche in questo quarto di secolo è completamente furbiante cioè non ha nella mio giudizio naturalmente è un'opinione che può essere criticata e contestata ma nel mio giudizio non ha niente a che fare con la realtà la realtà concreta dell'economia della società delle persone che lavorano di quelle che vorrebbero lavorare guarda tra le altre cose spesso quando un governo entra in carica fa delle proposte di solito si comincia subito a parlare questo devo dire anche in modo abbastanza trasversale si comincia subito a parlare dei vincoli esterni e quindi la BCE Bruxelles ma anche poi lo spread quindi mercati finanziari mercati internazionali e quindi c'è sempre un vincolo esterno l'Italia non può fare questo perché altrimenti gli investitori perché altrimenti la BCE perché altrimenti le istituzioni internazionali ecco ma questa è una retorica reale o c'è del vero in questa retorica oppure sono delle scuse che vengono accampate poi per non apportare dei cambiamenti profondi e poi se questa retorica è reale come spieghiamo ad esempio l'eccezione dei due governi conto in cui qualcosa in realtà era stato fatto penso al reddito di cittadinanza non fatto come promesso in campagna elettorale dai 5 stelle ma comunque raggiunto ecco un abbozzo di dignitoso in quel senso ora il problema è che questa retorica che richiamavi purtroppo ha degli effetti ma ha degli effetti negativi adesso non ricordo qualche anno fa mi pare che fosse il governo di Renzi però potrebbe anche essere quello di Gentiloni fu diffusa a livello internazionale una pubblicità per gli investitori venite a investire in Italia perché in questo paese gli ingegneri non i manovali gli ingegneri cioè i ragazzi che hanno studiato per almeno cinque anni una una serie di materie piuttosto complesse gli ingegneri li pagate pochissimo questa è la manifestazione lampante del carattere io mi spingerei a dire anti-italiano dei governi che si sono succeduti in questi due decenni salvo appunto la storia dei governi della scorsa legislatura prima di Draghi perché Draghi è pienamente dentro questa ideologia se noi pensiamo che il tema è far costare poco il lavoro noi andremo di fronte a situazioni in cui gli investitori investiranno non perché non so gli ingegneri italiani torniamo a quella pubblicità siano bravissimi ci siano competenze si possano attivare collaborazioni con le università nessun ricorda che il common rail dei motori diesel è stato inventato al centro ricerche fiat di Bari che era diretto da un signore laureato in fisica ed è stato poi svenduto alla Bosch poi si è diffuso su tutti i motori diesel diciamo d'Europa e del mondo e questo al di là appunto della vicenda commerciale di questo brevetto è il tema di veramente noi vogliamo investimenti perché il lavoro costa poco avremo investimenti in settori dove il lavoro vale poco e il prodotto vale poco se noi vogliamo invece investimenti che collochino l'Italia in un posto adeguato cioè in un posto buono nella divisione internazionale del lavoro è chiaro che noi dobbiamo pensare a un'altra cosa e anzi e non è certo un'invenzione mia perché risale all'economia classica inglese in particolare a David Riccardo quindi all'ottocea la prima metà dell'ottocento l'idea della frusta salariale cioè se i datori di lavoro devono pagare bene i dipendenti come peraltro prescrive la Costituzione italiana saranno sollecitati a investire su fattori diversi per migliorare il prodotto su fattori non price cioè io mi compro come tanti ragazzi mi compro l'iPhone perché l'iPhone è meglio del telefono che ho io che invece non è iPhone no? o comunque su fattori di prezzo diversi dallo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici se tu permetti incentivi solleciti spingi fai leggi volte a far pagare poco e sempre meno i lavoratori e le lavoratrici stai collocando l'Italia come un paese arretrato perciò dico che questa politica che ripeto ha accomunato lungamente forze politiche apparentemente contrapposte è una politica contraria agli interessi dell'Italia come paese oltre che delle persone che lavorano e si può fare altrimenti sì anche qui ho un'esperienza pratica di tipo pugliese naturalmente essendo pugliese ma la Puglia ha alcune aziende che sono sul mercato mondiale nel settore dell'aerospazio o per esempio il treno diagnostico che controlla la linea ferroviaria tra Pechino e Lhasa in Tibet che è importante per i cinesi per ragioni abbastanza ovvie è un treno che passa sui binari e ti dice devi riparare questo binario perché si sta deformando immaginate in Tibet cioè ad altitudini incredibili la ferrovia ad alta velocità e questo treno è fabbricato in Puglia allora vogliamo fare una industria seria e allora sì certo trovano lavoro gli ingegneri i fisici i chimici sulle nanotecnologie oppure vogliamo fare le pizzerie tutte uguali perché siccome tanto poi viene un sacco di turisti stranieri i ragazzi e le ragazze li teniamo a nero le paghiamo quattro soldi e riusciamo a campicchiare perché anche i datori di lavoro non è che diventino tutti ricchi certi campicchiano in settori in cui non c'è una ragione di avere tante imprese infatti le nostre imprese hanno una dimensione media che è la metà di quelle tedesche ma invece sempre al CNR hai detto che la situazione è così tra virgolette pesante da un punto di vista dell'organizzazione lavorativa che sarebbe necessario riorganizzare un movimento dei lavoratori quindi un sindacato ecco ma dopo 30 anni in cui effettivamente stiamo subendo attivamente tu dicevi negli ultimi 20 anni abbiamo avuto governi anti italiani antinazionali ecco dopo 30 anni di politica attivamente contro il lavoro contro la politica industriale del paese contro l'economia nazionale come venirne fuori anche da un punto di vista strettamente al di là anche dell'approccio politico anche da un punto di vista sociologico antropologico come si può far ritornare questo interesse questa voglia di partecipare tra i lavoratori questa è una domanda complicata perché noi siamo in una specie di circolo vizioso noi non stiamo parlando di partiti i partiti quando esistevano in Italia cioè nella cosiddetta prima repubblica erano un'aggregazione come dice l'articolo 49 della costituzione di persone che avevano un modo di vedere il mondo comune o per usare una parola che adesso è vietata ma che rimane valida un'ideologia comune e che quindi aggregavano le proprie domande in base a questo e ad aspirazioni ideali io vorrei un'Italia così pocola il sindacato è un'associazione che ha delle finalità diverse perché non opera nella politica nel sistema politico formale quanto meno opera nel sistema economico sociale e deve ottenere i risultati allora il circolo vizioso è questo degrado dell'economia italiana incentivato dagli indirizzi dei governi che si sono succeduti anche qui faccio una parziale eccezione per i due governi conte in particolare per il secondo per la verità questo fatto rende i sindacati sempre più deboli sempre più deboli faccio l'esempio più banale che è in corso adesso voi forse sapete ciascuno di noi avrà visto fuori agli ospedali nelle università in una serie di luoghi pubblici è stata esternalizzata l'attività del portierato chi ti dà informazioni chi chiede call center a che servono queste esternalizzazioni a pagare di meno le persone che se fossero dipendenti delle amministrazioni pubbliche dove stanno sarebbero certamente pagati un po' di più ora il risultato di questo fatto è che abbiamo una massa di sottooccupati una massa di sottooccupati vuol dire che queste persone faticano cioè che vivono il lavoro più come un'integrazione di redditi familiari magari c'è il genitore o il nonno pensionato per riuscire a appunto tirare avanti non voglio dire come dice la Costituzione vivere un'esistenza libera e dignitosa naturalmente non si iscrivono al sindacato non lo conoscono magari sono imprese piccole o anche no e comunque non guadagnano abbastanza per potersi permettere di fare sciopero perché lo sciopero ha un costo per chi lavora questo vuol dire che se i lavoratori e le lavoratrici non confliggono con i datori di lavoro per difendere i propri interessi i sindacati si siedono al tavolo e ottengono poco o addirittura niente nel settore del portierato ci sono voluti dieci anni servizi fiduciari così detto vigilanza privata e servizi fiduciari dieci anni per fare il rinnovo del contratto nazionale in dieci anni anche bassa che fosse l'inflazione prima del covid comunque quel poco che guadagni vale sempre di meno i lavoratori vedono che i sindacati non ottengono niente e come dire anziché essendo pervasi da questa ideologia io devo dire grazie che lavoro al datore di lavoro veramente il datore di lavoro che non potrebbe fare impresa se tu non lavorassi quindi si inverte il rapporto causa-effetto vedono che i sindacati ottengono pochi risultati e dicono fanno schifo i sindacati non mi iscrivo ancora meno sciopero quindi i sindacati sono ancora più deboli in una spirale che non ha fine se non si rompe nella testa delle persone questo elemento questa spirale non ha fine indebolisce i sindacati alla lunga indebolisce anche la parte datoriale perché noi abbiamo visto una serie di imprese anche grandi che abbandonavano la propria la prima più famosa è stata la Fiat ma non è stata vita l'unica in vari settori dalle assicurazioni al commercio all'industria imprese che abbandonano la propria organizzazione datoriale e cercano di aggiustarsi loro e loro con i propri dipendenti con effetto di indebolimento di quello che nella retorica dell'Unione Europea si chiama la coesione sociale perché la coesione sociale presuppone che le parti sociali siano forti entrambe che si siedano al tavolo che discutano sul serio e che sviluppino delle misure che siano anche incoraggiate dai governi nell'interesse dell'economia italiana appunto di non collocare l'Italia su questo scivolo verso il basso è accaduto il contrario quindi come può accadere che si inverta la cosa io non lo so non faccio il sindacalista faccio lo studioso penso che se non si rompe nella testa questa nella testa dei lavoratori e dei lavoratrici l'idea che siccome il sindacato ottiene poco fa schifo e quindi bisogna mandarlo a quel paese bisognerebbe fare l'esatto contrario siccome ottiene poco fa schifo bisogna sindacalizzarsi e lottare che è stato il percorso in cui in più di un secolo si è costruita la civiltà del lavoro del novecento un'ultima domanda Marco perché a questo punto vorrei farti un parallelo con la Spagna in Spagna il governo socialista cioè diciamo la coalizione di centrosinistra guidata dal partito socialista alla fine è riuscito a riaffermarsi proponendo una riduzione dell'orario di lavoro a parità salariale parlano di 37 ore e mezzo a parità salariale invece di 40 e anche Tritico insomma diceva che secondo lui quella può essere una soluzione in qualche modo per smuovere le acque e ti chiedo un tuo parere al riguardo cioè che ne pensi pensi che effettivamente una riforma di questo tipo ora potrebbe aiutare i lavoratori e l'economia italiana cioè ridurre l'orario di lavoro a carico dei dipendenti potrebbe aiutare rifar partire diciamo anche una dinamica di sindacalizzazioni richieste all'interno del mondo del lavoro oppure non c'è alcun margine anche in questo senso allora allora io direi questo noi abbiamo conosciuto una evoluzione secolare se noi lavorassimo oggi quanto lavoravano i nostri lontani antenati dell'ottocento avremmo decine di milioni di disoccupati naturalmente abbiamo avuto un movimento secolare di riduzione dell'orario di lavoro che ha reso la vita più gradevole l'Europa e tuttora come dimostra l'immigrazione il posto dove si vive meglio nel mondo a un certo punto sulla offensiva l'affermarsi delle politiche liberiste nel ciclo Reagan-Tutcher quindi nell'ultimo pezzo l'ultimo ventennio del secolo scorso del novecento questa tendenza si è invertita per cui come dicevo ci sono persone che lavorano troppo poco e quindi guadagnano troppo poco sono anche pagate troppo poco oltre a lavorare poche euro e persone che lavorano troppissimo se si potesse dire in italiano è chiaro che questo è un tema anche perché stiamo parlando non stiamo parlando di paesi poveri dell'Africa dell'Asia stiamo parlando dell'Europa occidentale perché l'Italia è un paese sempre più ingiusto sempre più ineguale con sempre più poveri ma è uno dei paesi più ricchi del mondo solo che io non credo mi pare di averlo detto a Roma in quell'occasione che una riduzione così limitata sia importante perché tu stai cercando di dire alle persone che se lavori mezz'ora di meno al giorno due ore e mezza alla settimana vuol dire questo sulla settimana standard di cinque giorni ti cambia la vita non è così infatti nelle imprese tecnologicamente avanzate in tutto il mondo ricco si lavora un'altra ipotesi che è una riduzione più drastica che ti lasci un altro giorno libero oltre al sabato e alla domenica quello si cambia la vita delle persone quindi io ho qualche riserva sul fatto che una riduzione così limitata sia capace di suscitare l'interesse delle persone che lavorano sia utile perfino per le imprese e in definitiva vada a finire da nessuna parte io credo che il problema di oggi dell'Italia sia uscire dalla stagnazione salariale e io se fossi ministro diciamo la cosa che farei è una legge sul salario minimo legale perché l'Italia è l'unico paese dell'Ox in cui il salario reale si è ridotto negli ultimi vent'anni l'unico non è così nessun paese d'Europa non è così il Messico che devo dire qualunque paese di quelli sviluppati perché l'Ox riunisce i paesi sostanzialmente i paesi più ricchi del mondo appunto solo in Italia ha avuto questa prolungata deflazione salariale e io credo che sia giusto dare priorità a questo aspetto non perché non sia giusto tornare a invertire il ciclo e ridurre l'orario di lavoro ma credo che bisognerebbe farlo in una maniera diversa più significativa e che investa più direttamente la vita delle persone di quanto non possa essere una riduzione di due ore e mezzo alla sera il reddito di cittadinanza andrebbe reintegrato? il reddito di cittadinanza è una misura il problema è stato questo che siccome il primo governo Conte era figlio dell'improbabile coalizione fra 5 stelle e Lega Nord questo era poi si determinò questa situazione la Lega che era ossessionata essendo quello che è da quest'idea dei meridionali fannulloni sul divano no? come cantava Pietra Montecorvino fadgamma fadga i meridionali secondo il loro modo di vedere è venuta fuori una legge che aveva dei difetti piuttosto evidenti il primo dei quali io ne avevo parlato in seminario all'Università Roma 3 con il padre che collega Pasquale Tridico e la madre che è la senatrice Inzia Catalfo della legge evitare di mischiare l'aspetto assistenziale dall'aspetto politiche attive del lavoro io ho sentito dire tre giorni fa durante un seminario all'Università di Trento perché è fallito il reddito di cittadinanza mi sono alzato e ho detto guarda che non è fallito perché se tu pensavi che il reddito di cittadinanza servisse a mettere a lavorare quelle persone non hai guardato i dati dove appunto più di 300.000 lavoravano ma l'hanno preso lo stesso perché lavoravano pochissimo per salari miserabili il reddito di cittadinanza serve a dire che ci sono delle situazioni estreme di povertà che possono dipendere dal fatto che hanno arrestato il tuo partner di vita dal fatto che sei una madre singola con figli minori e che se vai a lavorare magari non sei istruita e quindi puoi trovare solo dei lavori poco pagati e se li trovi lavori poco pagati non sai che fare dei figli cioè prenderesti i soldi e non ti basterebbero a parcheggiare i bambini o le bambine in un asilo perché è insufficiente la rete degli asili e così via il reddito di cittadinanza in sé è una giusta misura di reddito assistenziale il problema di trovare lavoro alle persone è un altro e diverso problema alcuni parecchi che lo hanno percepito lavoravano già naturalmente è stato reso difficilissimo dalla pandemia perché poi ci dimentichiamo che il governo Conte si è trovato ad avere a che fare con una cosa terrificante a livello mondiale come la pandemia e quindi dire che è fallito secondo me è una sciocchezza bisognerebbe ricostituirlo sì ma perfino il governo attuale non l'ha del tutto cancellato perché ha previsto un assegno di inclusione per dei casi particolarmente naturalmente ridotto a un importo che rappresenta un ricatto per le persone devi andare a fare qualunque lavoro anche miserabile malpagato in condizioni disagiate perché io di soldi te ne do pochissimi non abbastanza per campare e su questo si bisogna tornare indietro magari evitando gli errori che per il compromesso politico che fu fatto hanno determinato perfetto io ringrazio Marco Barbieri veramente mi ha fatto molto piacere questa intervista questa chiacchierata e speriamo di riaverlo presto e insomma spero che torni presto ad Ottolina TV ringrazio gli Ottoliner che ci hanno seguito ringrazio il professor Marco Barbieri a presto ciao a tutti ciao a tutti